Sindaco di Primio, l'accoltellamento di pochi giorni fa allo scalo, la rapina all'ufficio postale, questa mattina al Teat Center. Chieti è ancora una città sicura? Ma come si fa a dire che Chieti non è una città sicura per due episodi sicuramente gravi, ma altrettanto è vero che non sono una serie di episodi che possono cambiare la sicurezza della nostra città. Io rifiuto categoricamente coloro che pensano che un'attività commerciale, per quanto si svolga di sera, possa essere un elemento che crea violenza o crea criminalità. Così come penso che una rapina in un ufficio postale, con quello che leggiamo ogni giorno, non possa determinare una pericolosità degli uffici pubblici e postali, dei nostri uffici postali in città. Sicuramente questo invece è un elemento che deve farci comprendere che non può più esistere disinteresse da parte di nessuno, né sottovalutazione dei problemi. Quello no, cioè io mi rifiuto di sottovalutare il problema delle pericolosità di alcuni episodi che si verificano durante le nottate, soprattutto nella parte bassa della città. Così come dico che se vi è una rapina in un ufficio postale deve essere altissima l'attenzione da parte delle forze di polizia che si occupano di ordine pubblico perché ciò non avvenga più. Insieme a quello che possiamo fare come comune, cioè il comune deve alzare anch'esso le barriere verso questi fenomeni che sono fenomeni sicuramente preoccupanti, ma che ripeto non possono cambiare quella che è la storia di una città, che è quella di una città tranquilla dove episodi di violenza si verificano, ma sono assolutamente episodici. Si può fare una differenzazione però tra la parte alta della città e lo scalo dove evidentemente c'è forse qualche problema in più? Guardi, nella parte bassa della città c'è una concentrazione maggiore di locali dove si ritrovano la sera fino a tardi gli studenti, i ragazzi, i giovani, i cittadini di Chieti. Nella parte alta c'è una zona, quella di Porta Pescara e Via Toppi dove ci sono altrettanti locali dove ci si ritrova la notte. I disagi di locali che fanno attività soprattutto durante la notte li conosciamo, vanno gestiti, vanno controllati. Io non escludo di incontrare, sto pensando di incontrare gli operatori economici della nostra città per proporre loro delle soluzioni rispetto al controllo e alla prevenzione che devono essere fatti per combattere questi fenomeni.